Allora, guardiamo quelli che sono gli altri provvedimenti introdotti dal Jobsat dopo aver visto la Naspi. Andiamo a analizzare ora l'indennità disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione e coordinazione. Anche qua la decorrenza è il 1 maggio 2015 e andiamo a vedere quelli che sono i requisiti e i destinatari di questo provvedimento. I destinatari sono i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, con esclusione di chi? Degli amministratori, dei sindaci, degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che hanno perduto involontariamente la propria. Sono previsti anche in questo caso i requisiti, quindi essere in stato di disoccupazione e avere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente all'evento di cessazione del lavoro all'evento del proprio. Inoltre, è necessario avere un mese di contribuzione nell'anno solare della cessazione del lavoro, oppure un rapporto di collaborazione pari almeno un mese che ha dato luogo a un reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto al mese di. Come viene calcolata? Anche qui è stato fatto un rapporto tra il reddito imponibile relativo all'anno in cui si è verificato l'evento della cessazione e all'anno solare precedente, diviso per un numero di mesi di contribuzione o frazione. Anche qua, come abbiamo visto per la Naspi, è pari al 75% del reddito nel caso in cui si è inferiore a 1.195, se invece è superiore si calcola e si aggiunge un 25% sul differenziale. Comunque, l'importo non può superare i 1.300 euro mensili. La durata. La indennità di soccupazione, in questo caso, è anche, diciamo, in questo caso corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo, come abbiamo visto precedentemente, che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente all'evento di cessazione del lavoro a predetto i medi. Anche, in questo caso, si riduce il 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di freddo. La domanda deve essere presentata per via telematica entro termine di decadenza di 68 giorni dal rapporto di lavoro e, anche in questo caso, spetta a decorrere dall'ottavo giorno della cessazione, chiaramente, del rapporto, o se presentata successivamente dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Anche per la indennità di soccupazione sono previsti le clausole di condizionalità, cioè avere e riessere sempre in stato di soccupazione e la regolare partecipazione a eventuali iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualifica professionale proposti dai servizi competenti. L'altro intervento riguarda l'ASDI, l'assegno di disoccupazione, anche questo con decorrenza 1 maggio 2015. Sono destinatari coloro che hanno già beneficiato della NASPI e che, alla data del 31 dicembre 2015, sono ancora privi di occupazione e si trovano in una condizione economica di bisogno. Quindi, i requisiti, almeno nel primo anno, sono riservati a quei lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a lavoratori in età prossima al pensionamento. È erogato mensilmente per un massimo di 6 mesi ed è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI e, comunque, l'importo non è mai superiore all'assegno sociale. L'ASDI in realtà consiste in voucher, veri e propri, da spendere presso enti di formazione o centri per l'impiego per partecipare a corsi di formazione professionale.